Cosa faccio? Insomma, io sono una grande attrice, interpreto me stessa. La mia presenza al gatto intangenziale è fondamentale. È una controfigura senza senso però. Allora, è bellissimo, stai benissimo. In un certo senso per me è una divinità. Abbiamo trascorso un giorno sulla spiaggia, io e lei. Lei sembrava Stevie Nicks, la cantante di Fleetwood Mac, sempre avvolta da veli. Sembra un po' Pina Bauce anche quando cammina. Con quel suo fare, in questo caso, anche un po' indagatorio. Lei indaga un po' sulla vita di Giovanni, stavolta in maniera quasi professionale. Sappiamo le indagini giornalistiche di Franca, quanto siano approfondite. Chi, se non Franca, poteva indagare sul suo disagio? Infatti gli dice una cosa molto importante. Ti vedo un po' preoccupato. No, no, ti vedo un po', diciamo, impicciato. Riusci bene che non potevo mancare assolutamente insomma.